Settima edizione per la Napoli City Half Marathon, la gara polistica cittadina presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo. Appuntamento a fuorigrotta per domenica 23 febbraio con partenza mattutina dal centro esposizioni della mostra d'oltremare in Viale Kennedy. Un appuntamento fisso per Napoli e per la città e un appuntamento fisso per 3.200 fuori regione che arrivano ed è un appuntamento fisso, speriamo, ma quest'anno sì, per 1.560 stranieri che arrivano da 65 paesi e parleremo 37 lingue. Quindi è un appuntamento fisso ormai internazionale. Questa gara è molto importante per il nostro territorio perché porta economia, porta visibilità alla mostra e non soltanto alla mostra, tutta la nostra regione perché è una gara internazionale. Quindi siamo contenti e fiduciosi che questa attività possa andare avanti ancora per molto molto tempo. Il percorso della mezza maratona di Napoli si snoderà sul lungomare di via Caracciolo ed attraverserà alcuni dei luoghi monumentali della città per poi ritornare alla mostra d'oltremare. In linea con gli obiettivi del breve periodo, ovvero quello di creare un vero polo dello sport urbano all'interno di mostra e dare la possibilità ai cittadini di attraversare un luogo sicuro all'interno del quale si possa praticare anche lo sport. Questo è un evento meraviglioso, un momento di grandissima aggregazione, quindi un momento che vede al centro il sociale, i valori del sociale e tra l'altro valorizza molto la città di Napoli e la meravigliosa popolazione della città. Chiaramente noi concorriamo, uno dei nostri hashtag, noi ci siamo sempre. Per informazioni e per le iscrizioni si può consultare la pagina internet www.napolirunning.com È un appuntamento immancabile per la città, ormai è sempre diventato un punto di riferimento per i tanti atleti, per i tanti corridori, ma soprattutto una delle manifestazioni più importanti che abbiamo in città.